Gianna Di Cirolamo e Mario Marlo Che splendore, come sempre maestra Grazie, sempre molto gentile, galante Anche tu Mario, non da meno Vi facciano le scarpe Non te l'avevo mai vista queste scarpe in tanti anni L'occasione Allora signori, questi due maestri di ballo Sono la colonna portante non solo di Canale Danza Ma anche della nostra federazione Lei durante i cerimoniali porta a guida le bandiere Nel picchetto di testa delle sfidare Anche Mario, insomma, sono veramente dei personaggi importanti Per quanto riguarda la danza Allora, adesso siamo qui per ballare Cosa ci avete preparato in questa occasione per il format di Rossana? Allora, in onore del grande maestro Gigi Broietti C'è un tango cantato, il ballo della morte E interpretato in una maniera originale La vostra... ah, è vero che arriva la direttrice artistica E io... Mi pare che io lo ringrazio veramente Sono onoratissima di avere due insegnanti di ballo Standard, mi pare Vero se non vale il parlo? Allora, tutto quello standard Un po' di tutto, scusate Un po', ecco, lì è inoltre Lo so Guarda il settore Prego No, quando tutti ho detto Guarda che sicuramente per anno Gianna e Mario Tu sei stato entusiasta No, questo è vero No, per tutti è uguale Solamente ero un attimo impegnata In bocca dopo tutti Grazie, grazie signori Allora, per loro è il momento della danza Godiamoci questa coreografia dei maestri Gianna e Mario Il ballo della morte Prego Che è sta musica? Niente È un po' di musica di scena Tanto che ritirassi subito Poi con vostra licenza Tu è musicista dei magnanti E allora Famosi in balletto Ma non esageriamo che balletto Ma danza maga E dai E stringi Non c'è paura Con torta e minetta tua C'hai risione di coltina Dai Accordate il passo Ma quale passo? E lo passo è struevo Che te pareva? Amo E comincio a ballo Da cratta Stretta Stretta E stringi A forte E metto E a camo E con me Che fai me porchi? Da bravo E per casche Morte che desto Sai Sul cuore Che fatti Attentale E con me A che verità E' un conto della morte E' inutile Che appizzi E che te stringhi E che stringhi Nella danza Morte Sto manzo A panza Non lo poteva Oggi non c'è la sangue e la c'è, o mare che non ti estruirà. Oggi non sei figura, domani in sepoltura. Torne, è diventato! Morfem, sai balla! Aspetta, stai guardando. Allora... Che fede! Morfem, sai stoppare! Stoppare non mi piace! Tu requiesca in pace! Io me ne devo, Anna! Che fai? Ritorna qua! Io posso ciò da fare! Fantastico! Eccoli, fantastici ragazzi! Certo, è ovvio che i ballerini hanno bisogno di spazio. Questo è uno studio televisivo per l'occasione. Guardi, il regista ti ha fatto un segno. Non bisognava uscire più da quel segno. Però, ne passa la pena perché era un tango veramente particolarissimo. E complimenti per la coreografia, Gianna! Grazie! Era un mix di stando standard e argentino. Che non è facile miscelare poi le due discipline. Mario, non lasciateci perché faremo il finale tra poco. Grazie per la partecipazione al format di Rossana Barbarossa!